Toffoli Società Agrico nasce appunto dal nostro papà Vincenzo Toffoli che è stato appunto il fondatore come accennavo nel 1964. Abbiamo rifatto anche l'etichettatura dei nostri vini proprio in concomitanza con il cinquantesimo dell'avvio di questa attività. E diciamo in 50 anni abbiamo fatto anche una buona strada. Nostro papà ha sempre lavorato nel mondo dell'agricoltura, nella vita. Era bravo soprattutto anche come innestatore di viti, aveva fatto un'importante esperienza in un vivaio del settore e appunto conosceva molto bene tutte le varietà di barbatelle e come innestare e quali prodotti ottenere da questa attività. Quindi le mani sempre sulle viti le ha sempre avute insomma. Concludo mandando al solito consueto saluto che ho l'opportunità grazie Antonio di potervi salutare e auguravo ogni buona cosa e soprattutto un anno anche di salute e di serenità. Auguri a tutti. Ciao. Ciao.